Musica Oggi vi propongo un'alternativa alla semplice acqua aromatizzata detox ma andiamo a mescolare proprio l'infuso, quindi le proprietà di un infuso di una tisana insieme con la frutta fresca Qui abbiamo i semi di anice, i semi di anice sono grandissimi alleati contro il gonfiore addominale perché aiutano a contrastare il meteorismo e quindi aiutano anche a digerire e aiutano anche a non sentire quel senso di gonfiore per esempio anche dopo i pasti Come lo prepariamo? Allora prendiamo un pentolino e mettiamo dentro circa mezzo litro d'acqua e uniamo un cucchiaio generoso di semi di anice Eccola qui Li uniamo, facciamo bollire per circa due minuti Spegniamo e lasciamo raffreddare Dopodiché andiamo a filtrare Io ho già la mia tisana pronta che ho fatto raffreddare appunto Che cosa facciamo? Prendiamo un bicchiere e mettiamo all'interno Io qui ho scelto del kiwi Il kiwi è ricchissimo di vitamina C Quindi è antiossidante E se lo scegliete dolce darà anche proprio un gusto dolce anche alla vostra acqua Ecco qui Abbondiamo, potete abbondare con la frutta Fette di limone oppure fette di lime Io qui le ho messe tutte e due Mettiamo un paio di fette di limone Dopodiché andate a versare l'infuso a base di anice Eccolo qui Potete fare questa cosa anche in una brocca E metterla a riposare in frigorifero per circa tre ore In modo tale che la frutta rilascerà il gusto e le proprietà all'interno dell'infuso di semi di anice Poi una cannuccia Se gradite anche dei cubetti di ghiaccio Ed è pronta da bere